Ciao a tutti in questo nuovo video, oggi siamo con un nuovo gioco, cioè Dollstacks, è un gioco della supercelli, di battaglia, di scontri, questi brawler, questi personaggi, sono tutti, poi sta uscendo un nuovo brawler che ci ha 4 giorni, giocheranno in modalità classificata per arrivare almeno a diamante 1. Sono rimasto un po' indietro, diciamo che non sono scarso, ho 38.658 coppe, noi partiamo scinti anche e ne partiamo. Non so se ti metto. Forse Piper, o Merger, no forse, si prego con Piper, così almeno, cioè io con Piper sto forte, sono una schiena, guarda che bene, ho quello in mezzo. Non so se ti metto, sono un po' indietro, sono un po' indietro, sono un po' indietro. Non so se ti metto, sono un po' indietro, sono un po' indietro, sono un po' indietro, sono un po' indietro. Non so se ti metto, sono un po' indietro, sono un po' indietro, sono un po' indietro. Non so se ti metto, non so se ti metto, guarda, guarda, guarda. Sì, sì, sì. ho detto qua ho detto destra ho detto destra prendo qua non è meglio vai ragazzi almeno diamante è uno No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.